Vi trovate in difficoltà quando si tratta di inseguimenti su Dead by Daylight? Questa guida mira a trattare le basi dei chase, oltre a darvi consigli utili per rendere le vostre partite più soddisfacenti. Iniziamo con il concetto dell'inseguimento in sé. Il chase inizia quando entrambi il killer e il survivor stanno correndo. Questo è perché possono capitare situazioni dove il survivor è nel campo visivo del killer, ma il giocatore che lo controlla non l'ha visto. Durante l'inseguimento entrambe le parti sentono la musica in inseguimento dedicata al killer e oddio se ci sono delle belle canzoni. L'obiettivo dei killer è fregare i survivor per catturarli. Quello dei survivor è di far sprecare più tempo possibile al killer. Quando un survivor corre, lascia dietro dei graffi rossi invisibili al survivor, ma ben visibili al killer, che indicano a quest'ultimo il percorso che il survivor sta percorrendo. Da feriti si aggiungeranno anche le pozze di sangue e i versi di dolore, che renderanno i survivor ancora più facili da individuare, quindi tenetelo bene a mente. I survivor possono utilizzare diverse risorse presenti in tutte le mappe del gioco per evitare di essere catturati. In ogni mappa esistono delle zone che vengono denominate loop. I loop, come si può intuire dal nome, sono zone create per il survivor, per tenere occupato il killer, e solitamente in queste zone sono presenti bancali e o finestre. Questi loop sono, secondo alcuni criteri, generati in maniera casuale in ogni partita. I bancali, anche detti pallet, sono la risorsa più preziosa. Iniziano tutti come sollevati, e quando ci si avvicina si ha l'opzione per buttarli giù. Facendo questo, si blocca il passaggio al killer, il quale sarà costretto a scegliere se spaccare il bancale o girarci attorno. Entrambe le situazioni lo costringono spesso a perdere tempo. I survivor possono scavalcare i pallet in due modi. Lentamente, ovvero non facendo rumore, ma l'azione sarà molto più lenta. E velocemente, facendo rumore ma l'azione sarà più veloce. La cosa più importante da dire sui pallet è che bisogna cercare di preservarli il più possibile, per vari motivi. Facciamo finta che usiamo questo pallet subito all'inizio della partita. Facciamo così in modo che quando uno dei nostri alleati dovrà essere inseguito in quell'area, si ritroverà con risorse limitate. Ovviamente si impara con il tempo come gestire al meglio i pallet, anche grazie all'aiuto dei mindgame, di cui parleremo fra un po'. Ora parliamo delle finestre, e queste sono leggermente più complicate. Le finestre, anche detti vault, possono essere trovate anche in queste in tutte le mappe. Quando non si è inseguiti, si possono scavalcare all'infinito, senza ripercussioni, generando un rumore che vi assicuro sfonderà i timpani del killer avversario. Quando inseguiti però, la cosa cambia. Difatti, una singola finestra potrà essere scavalcata solamente tre volte, prima che l'entità la blocchi per un po'. Questo costringe i survivor a pensare rapidamente alle decisioni da prendere in chase. Inoltre, le finestre possono essere scavalcate in tre modi differenti. Scavalco lento, facendo poco rumore, ma essendo molto più esposti ad essere colpiti. Scavalco medio, attaccati alla finestra e premendo il tasto della corsa. Scavalco veloce, il più rapido di tutti, ma richiede una bella rincorsa. L'ultimo argomento che va trattato è forse il più importante, i mindgame. I mindgame possono essere visti essenzialmente come un'interazione nella quale tu e l'avversario cercate di fregarvi a vicenda, rispettivamente per colpire o per evitare di essere colpiti. Fermiamoci un momento per dire una cosa. Essendo che ci sono più di 30 killer in questo gioco, tutti hanno poteri, playstyle e velocità di movimento differenti tra loro. Di conseguenza, ognuno avrà i propri mindgame. Per i poteri, vi consiglio di guardarvi la mia guida più o meno aggiornata per tutti i killer. Il discorso della velocità di movimento è un po' complesso. Per questioni di bilanciamento, alcuni killer sono più lenti a muoversi rispetto ad altri, e solitamente questi sono killer che hanno abilità che gli permettono di compensare la lentezza con la forza del loro potere. Lascio qui una lista delle differenti velocità di movimento in questo momento. Per questa guida prenderò come esempio un killer come il trapper, che ha statistiche base e potete usare come punto di riferimento. Iniziamo con il dire che una delle cose più importanti da imparare subito non sono i loop, quanto l'imparare a gestire la visuale. Esercitatevi alternando il guardare davanti per capire dove state andando e il guardarvi dietro per capire la distanza del killer e se sta usando il suo potere. Ogni killer ha un cono rosso che indica la direzione in cui sta guardando. Questo cono rosso può essere usato come punto di riferimento per capire dove è il killer in un determinato momento. Per essere ancora più efficienti potete posizionarvi in punti strategici durante i vostri inseguimenti. Facciamo finta per esempio che non abbiamo idea di dove sia il killer, per via dei muri presenti davanti a noi. La cosa che possiamo fare è posizionarci in questo angolino per coprire tutti i punti ciechi, così che avremo tempo per reagire appena vedremo il killer. Altre giocate che si possono fare sono le finte. Prendiamo come esempio questa finestra. Se il killer è troppo vicino ci prenderà quasi sicuramente. Una mossa che si può fare invece è far credere che andremo a scavalcare la finestra per poi cambiare direzione all'ultimo e ebeitare il killer ad attaccare a vuoto, facendogli perdere tempo e permettendoci di recarci in un altro loop o alla salvezza. Questo trucchetto può funzionare anche sui pallet. Il segreto per un buon inseguimento è mantenere spesso una distanza abbastanza buona dal killer e andare nella direzione opposta alla sua. Il bello di questo gioco è cercare di capire il tuo avversario, capire il modo in cui utilizza il suo potere e agire di conseguenza. Ok per quest'ultimo consiglio ci spostiamo su photoshop dove ho creato più o meno un disegnino che dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Questo consiglio consiste nel farvi capire l'importanza vera del vostro movimento. Facciamo finta che il survivor si muova in maniera larga così dove questa cosa gialla rappresenta la finestra. Seguendo questo movimento Yui ha perso un sacco di terreno. Se il demogorgone la dovesse prendere in questa maniera qua, quindi molto attaccato al muro, come potete vedere la raggiungerebbe molto più in fretta e soprattutto non sono manco sicuro che arriverebbe al pallet. Il mio consiglio è una volta che avete imparato i loop o comunque avete preso confidenza con i comandi, cercate di giocare più attaccati possibili al loop stesso per non perdere terreno. Non preoccupatevi se all'inizio avrete difficoltà, sarà perfettamente normale. Tenere un killer anche per 30 secondi è un grande aiuto per la vostra squadra e può aiutare con il progresso dei generatori e in generale della vostra squadra. Con questo concludo questa guida, se avete altri consigli da dare o se avete notato delle mancanze scrivete un commento qua sotto e sarò ben felice di rispondervi. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi aiutato. Alla prossima! Alla prossima!